Abbiamo visto una persona che dormiva per strada! Quella persona sta dormendo per strada! Continuava a dormire! Lasciate un mi piace se dobbiamo aiutare questa persona! Lasciato! Cosa? Così siamo corsi subito in un supermercato! Abbiamo preso dei biscotti! Una bevanda super rinfrescante! Quella persona sarà felice! Poi abbiamo portato tutto a quella persona! Fra poco si sveglia guardate! Adesso sta per svegliarsi! Ha visto il cibo! Iscrivetevi per la parte 2! Adesso renderemo felice questa persona! Lasciateci spiegare! Oggi questa persona sembra molto triste! Lasciate un mi piace se dobbiamo fare un regalo a quella persona! Cosa? Così siamo corsi in un negozio ed abbiamo visto tantissimi peluche! Ok, decidete con noi! Quale peluche prendiamo? Ok, questo è perfetto! Compriamo questo! Adesso metteremo il peluche lì e vedremo la sua reazione! Appena l'ha notato era veramente molto felice! Iscrivetevi per la parte 2! Grazie! 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 Grazie!